Oggi abbiamo fatto questo evento che si chiama Fe Fiscal in occasione della fine del crowdfunding che aveva lo stesso nome Fe Fiscal. Sostanzialmente abbiamo organizzato un'esposizione all'interno dell'Archeologica dei Giardini Luzzati in questa esposizione erano presenti alcune delle ricompense del crowdfunding stesso e insieme a queste ricompense diciamo che abbiamo voluto mettere della musica di persone con cui abbiamo avuto modo di collaborare in precedenza e comunque artisti che conosciamo e quindi abbiamo nel pomeriggio messo una radio con vari artisti e adesso la sera ci sono dei live e quindi niente, musica elettronica tendenzialmente. Contemporaneamente a questo evento ai Giardini Luzzati abbiamo anche tenuto dei workshop di serigrafia al Cargo Market e sosteneteci, seguiteci e veniteci a trovare a Palazzo Bronzo che è in salita di Mascherona 18 Rosso. Palazzo Bronzo è un artiste run space che si trova nel centro di Genova, nei vicoli, in salita di Mascherona e diciamo che nasce con l'intenzione di essere sia uno studio che uno spazio per accogliere artisti emergenti e creare un luogo di dialogo, quindi è molto importante l'aspetto di apertura verso l'ambiente underground e quello di ricerca culturale contemporanea.